Che stagione sarà per l'Avellino? Si spera una stagione sicuramente con qualche sofferenza e meno della scorsa. Siamo ancora in attesa di qualche corpo di mercato per completare l'11 titolare, però i nomi che girano sono buoni, quindi siamo molto fiduciosi. Le sensazioni quali sono dopo pochi minuti di questo primo allenamento? È difficile dirlo, più che altro rispetto all'anno scorso partiamo già da un gruppo consolidato, i cosiddetti senatori sono stati quasi tutti confermati e sono persone comunque adatte alla categoria, quindi già questo fa ben presagire per il prosieguo. Un entusiasmo alle stelle dettato soprattutto dalla riconferma di quello che è stato davvero l'artefice principale della salvezza dello scorso anno, Walter Novellino. Questo sicuramente, credo che sia stato al momento e resta il migliore acquisto dell'Avellino quest'anno. È un allenatore di categoria, conosce già buona parte della squadra, sa metterla in campo, sa leggere le partite, quindi sicuramente sarà il nostro uomo in più. Finora soddisfatto del calciomercato, che cosa ti aspetti, chi ti aspetti dal mercato? No, del calciomercato ci sono stati buoni acquisti, qualche altro giocatore arriverà, speriamo, più in difesa sicuramente, la parte difensiva è sicuramente la parte più importante di un cambiato di Serie B, perché avere una grande difesa, si vengono molte partite avendo una grande difesa, poi si vedrà. Per quest'anno, come gli altri anni, ci accontentiamo della salvezza e poi una volta raggiunti i 50 punti vediamo dove saremo e io spero sinceramente di ritornarci nelle prime otto per i play-off e magari la Serie A, perché no? Per il portiere poi sinceramente sono un po' scettico, perché le Zerini l'abbiamo visto solo una volta l'anno scorso e diciamo che per quella volta abbiamo potuto vedere poco e Radu non l'ho mai visto giocare, quindi vedremo. In attacco invece chi ti aspetta? Mi aspetto un buon acquisto da affiancare ad Ardemagni, anche perché Castaldo e Ramello abbiamo imparato, ha dei periodi di forma, ha dei periodi altalenanti di forma. In attacco ci vuole qualcuno che affianca a Ardemagni, Castaldo ha i suoi limiti di età per la verità. Un nome da fare? No, in questo momento no. Forza Lupi, forza. Forza Avellino.